Un minuto per dirvi che sabato 21 gennaio c'è il Super Outlet anche da bimbo e abbiamo preparato un sacco di cosine nuove, di articoli nuovi vi faccio vedere solo qualcosa allora, jeans Jack & Jones 15 euro prezzo Outlet 25 prezzo di partenza Felpina Sarabanda 36,50 il prezzo di partenza 9 euro il prezzo Outlet Bermudino di Vicolo 49 euro di partenza 15 euro il prezzo Outlet Felpina di Minecraft a 15 euro Felpa Boy London casca sempre qualcosa nel mio video Boy London questa viene prezzo Outlet 19 euro prezzo di partenza 43 euro e l'ultima una bella Felpina sempre di Boy London ma sono solo alcune delle cose che troverete sabato 25 euro prezzo Outlet 59 euro prezzo di partenza vi aspettiamo sabato per il Super Outlet ciao